L'Urling . Grazie a tutti. Il tiro di Balotelli, la parata di Buffon, il miracolo e poi ancora Buffon, due miracoli del capitano, Milan è vicinissimo al gol del vantaggio, punizione è baduta benissimo da Mario Balotelli. Attenzione, corrisso dentro per Fekir, Fekir attenzione, Fekir il tiro, Buffon, Buffon ancora, ancora una volta, il capitano a Miradino, stavolta Fekir. La punta Messi, c'è la finta, De Morde, Chedira, paga in area, posizione regolare davanti a Buffon, miracolo di Gigi. Un tiro più alta, la traversa, colpita da Bologna, grande opportunità per il pareggio, non è finita, Buffon! San Gigi, coppia il miracolo finale, arriva uno, arriva due e arriva tre. Messi prende la mira, Messi la conclusione, Buffon! La mette in calcio d'angolo e dice di no, Mario del Messi! La mette in calcio d'angolo e dice di no, Mario del Messi! La mette in calcio d'angolo e dice di no, Mario del Messi!